A tutti voi la più cordiale buonasera e ben ritrovati dagli studi del TGNO, edizione dunque provinciale del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca. Ricorderete le auto andate a fuoco nel luglio del 2022 a Benabbio, siamo nel comune di Bagni di Lucca, ebbene sono stati presi i cosiddetti piromani delle auto. Sono stati identificati dai carabinieri i presunti autori degli incendi di auto che nel luglio del 2022 erano avvenuti a Benabbio, frazione del comune di Bagni di Lucca. Si tratta di due ragazzi minorenni, oggi di 15 e 17 anni, che sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per i minorenni di Firenze per il reato di danneggiamento da incendio. Era il luglio del 2022 quando una serie di incendi di autovetture avevano turbato la quiete della tranquilla frazione. Prima un autocarro e poi qualche giorno dopo altri tre veicoli bruciati, tra cui un altro camioncino. Già dai primi accertamenti dei carabinieri di Bagni di Lucca e del nucleo operativo di Castelnuovo, supportati dai sopralluoghi dei vigili del fuoco, si era capita l'origine dolosa di questi fatti, situazione che aveva peraltro alimentato anche una certa inquietudine a Benabbio. Nessuno, tantomeno i proprietari, tutte persone tranquille e senza ombre nel proprio passato, sapevano darsi una spiegazione gesti. Alla fine però le indagini condotte dai carabinieri del nucleo operativo di Castelnuovo hanno portato a trovare i presunti autori, risultati sorprendentemente due minorenni. Un'attività certosina di indagini che infine si sono focalizzate verso i due ragazzi. I militari peraltro hanno raccolto anche prove che, oltre alla contestazione sugli incendi, accrediterebbero i due giovani anche come presunti autori di un furto di abitazione di un'anziana signora di Benabbio, avvenuto nel giugno 2022. Quello che ancora lascia perplessi gli inquirenti è invece il fatto che, qualora gli esiti giudiziari dovessero confermare l'effettività dell'accusa verso i due ragazzi, rimarrebbe comunque il mistero ed anche la preoccupazione per questi gesti incendiari commessi senza una reale motivazione. Ancora la cronaca, un uomo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cisanello di Pisa dopo una caduta avvenuta nel pomeriggio durante un'escursione all'Alpe di Sant'Antonio di Molazzana, in località Pian di Lago. L'escursionista è stato recuperato dai tecnici del soccorso alpino e speriologico toscano. È stato necessario, si è reso necessario anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso per il trasporto al nosocomio di Pisa. Al momento ci mancano altri dettagli che vi daremo sicuramente nelle prossime edizioni del TG Noi. Profonda commozione in città ma non solo per la scomparsa di Beppe Lorenzini, storico tifoso della Lucchese e conosciuto in pratica da tutti perché ha gestito per tanti anni l'edicola di via, un'edicola di via Fillungo nel centro di Lucca. Forse l'ultima partita della sua Lucchese a Ponte d'Era non l'ha nemmeno vista. è morto intorno alle 4 di notte. Di sicuro la morte di Beppe Lorenzini, aveva compiuto 70 anni ad agosto, ha destato profonda commozione in tutta la città e non solo negli sportivi rossoneri, molti di quali avevano condiviso con lui gioia e dolore in tanti anni a sostegno dell'amata Pantera. Da qualche anno Beppe, titolare della notte edicola in via Fillungo, combatteva contro una malattia che se l'è portato via. Beppe aveva seguito la sua amata Lucchese sui campi di tutta Italia con la pioggia e con il sole ma soprattutto con una straordinaria passione. L'edicola dove ha lavorato per una vita oggi è chiusa ma sulla serranda campeggia una sua foto con un messaggio commovente. Ciao, me ne sono andato via ma vi porterò sempre nel cuore e griderò anche oltre la fine forza Lucchese. Ciao a te Beppe, da parte del nostro direttore Giulio del Fiorentino e da Guido Casotti e Luigi Casentini che hanno avuto modo di conoscerti e di apprezzarti ma anche da tutto lo staff di Noi TV vanno le più sentite condolianze alla famiglia Lorenzini. Sicuramente sabato, probabile giorno delle sue sequie, il popolo rosso-nero e anche la lucchese saranno tutti lì. Apporgervi l'ultimo saluto. E manca a dirlo la scomparsa del povero Beppe Lorenzini sarà anche al centro della puntata di questa sera a partire dalle 21.30 di Curvo Ovest. Tra l'altro ospite dei nostri studi insieme a Decidio Conca ci sarà l'opinion leader Giulio Castagnoli e il centrocampista della lucchese astrologo. Investimenti record dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 6 milioni e mezzo di euro per le opere pubbliche della provincia. Vediamo. Investimenti record dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che eroga 6,5 milioni di euro per il completamento o la realizzazione di 23 opere pubbliche nella provincia di Lucca. contributi che, integrando i finanziamenti già ottenuti dagli enti, renderanno possibili interventi per un valore complessivo di oltre 55 milioni. La Fondazione è andata a intercettare un bisogno concreto espresso dalle comunità locali e in particolare dalle amministrazioni, ha precisato il presidente Marcello Bertocchini, di cui l'idea di pubblicare il bando opere pubbliche 2024-2026. 23 progetti accolti, alcuni dei quali decisamente importanti, come la demolizione e la ricostruzione con ampliamento dell'edificio principale del liceo scientifico Vallisneri a Lucca, la realizzazione di una nuova palestra nel plesso scolastico di Gallicano e della residenza artistica per la piana a Capannori. Scorrendo la lista incontriamo anche cantieri di grande interesse, come quello destinato al restauro e rifunzionalizzazione di una parte dello stabilimento termale Jean Varro di Banni di Lucca, oppure gli interventi di valorizzazione della Casa Museo Maraini a Molazzana. L'entità delle risorse messe a disposizione dalla Fondazione è stata così rilevante proprio in ragione di una necessità avvertita, ribadisce l'ente di San Micheletto, e quindi di un'occasione concreta di intervenire a favore del benessere delle comunità. Andiamo a Massa dove tornerà la prossima estate il Festival Musica sulle Apuane. Da giovedì 20 giugno a domenica 15 settembre 2024 torna a Massa sulle Apuane il Festival Culturale in Quota, organizzato dal Club Alpino Italiano di Massa con la collaborazione di varie sezioni del CAI della Toscana e il sostegno del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Sostegno che dal 2013 ad oggi, negli anni, è cresciuto. Il Parco vuole incoraggiare questo tipo di iniziative che rendono protagoniste le associazioni del territorio, in un mondo particolare il CAI, ma anche molte realtà artistiche, creative, giovanili, importanti, in un festival che valorizza il nostro territorio e valorizza il Parco delle Alpi Apuane. Giunto quest'anno la sua dodicesima edizione, il Festival si propone come obiettivo di far conoscere le Alpi Apuane ad un pubblico sempre più vasto e diversificato, coniugando una proposta artistica di alto valore culturale con l'educazione ambientale. Si passa dalla musica classica al jazz, al cantautorato, al rock e anche al teatro. Verranno esplorati luoghi montani, naturali o anche paesi e anche alcuni luoghi cittadini. Ad ogni evento è abbinata un'escursione organizzata dal CAI di Massa e anche in collaborazione con altre sezioni CAI Apuane. Il Festival, completamente gratuito e organizzato in posti facilmente accessibili per favorire una sempre più larga partecipazione, permette così a tutti di godere della bellezza dei luoghi proposti. L'obiettivo proprio è quello di rendere accessibile questo nostro territorio che sono le Apuane di una bellezza straordinaria e anche criticità, insomma, quello che noi incontreremo e faremo conoscere. Gli eventi sono proprio l'elemento anche culturale, insomma, che arricchisce poi le varie giornate. E con il Festival sulle Apuane si chiude anche la prima parte di questa edizione del TG Noi, la linea e valla regia, per alcuni preziosi suggerimenti commerciali. Grazie.